Qui abbiamo una pietra spaccata, un colore beige e vogliamo dargli la cera direttamente senza mettere gioia. Quindi è molto assorbente, la diamo con la nostra spugna. Usiamo la cera d'api che è specifica per queste situazioni con gli spessori. Dopo 10 minuti possiamo procedere col panno, lucidiamo e vediamo che anche se abbiamo dato cera in quantità non vedremo nessun tipo di macchia.